L'Agenzia delle Dogane è impegnata anche nell'ambito dell'illecito farmaceutico. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Valentina Cavalieri, che abbiamo incontrato a Roma nell'ambito del convegno sul crimine farmaceutico, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Società Italiana di Medicina Farmaceutica, Simef e AIFA. In tema di illecito farmaceutico, quali sono i compiti dell'Agenzia delle Dogane? L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha una specifica missione nell'ambito del contrasto al crimine farmaceutico, in quanto deve applicare tutto il corpus della normativa doganale comunitaria e nazionale per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini dell'Unione. In quanto tale, quindi, ci operiamo per garantire un'efficace azione di contrasto ai confini, nell'importazione, nell'esportazione e nel transito dei prodotti medicinali, così come di qualsiasi altro tipo di prodotto che entra o esce dall'Unione Europea. Quali sono i principali progetti che avete in essere? I progetti sono molteplici e coinvolgono bene o male tutti gli attori che intervengono nel contrasto al crimine farmaceutico, quindi il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, AIFA in quanto ente regolatorio, Carabinieri Nassi in quanto forza di polizia specializzata nel contrasto al crimine farmaceutico. E sicuramente noi operiamo come primo filtro, siamo il primo filtro per impedire l'entrata e l'uscita nell'Unione di medicinali potenzialmente pericolosi, quindi comunque illeciti, falsificati o contraffatti nel termine specifico di contraffazione. I nostri progetti chiaramente sono molteplici e spesso coinvolgono questi altri attori, ma in primo luogo operiamo effettuando una efficace e concreta analisi dei rischi sui controlli che effettuiamo, perché è impensabile credere che la Dogana possa effettuare un controllo fisico su tutte le merci in entrata e l'uscita dall'Unione e quindi dobbiamo affinare quella che è l'analisi dei rischi e quindi garantire dei controlli perfettamente mirati su quello che noi sappiamo abbia una possibilità molto elevata di illegalità, nello specifico un farmaco illegale. Quali le maggiori criticità che affrontate? Le maggiori criticità possiamo dire che noi operiamo come una squadra di calcio, come tale siamo tanti, abbiamo diverse specifiche competenze e dobbiamo lavorare tutti insieme. lo stiamo facendo, lo stiamo facendo in maniera alquanto efficace, dobbiamo però sviluppare di più questa cooperazione perché più cooperazione c'è sia a livello nazionale che a livello europeo che a livello internazionale più sarà poi l'efficace azione di contrasto.